Una terribile notizia ha sconvolto la comunità di Nove, dove la famiglia piange la morte improvvisa di un ragazzo di soli 24 anni e lì a Fiorio, trovato senza vita nel suo letto in una stanza di hotel a Mallorca in Spagna, il giovane si trovava in vacanza alle isole Baleari questa settimana con un paio di amici. Il dramma risalerebbe alla giornata di martedì, si presume possa trattarsi di un decesso per cause naturali. Saranno effettuati tutti gli accertamenti del caso a dare notizie, delineare i fatti per quanto possibile, sapere è un servizio del giornale di Vicenza. Sembra che il turista Vicentino avesse accusato un lieve malessere, un apparente innocuo mal di testa, rinunciando alla spiaggia per qualche ora allo scopo di riposarsi in camera. Gli amici e compagni di soggiorno al loro ritorno lo hanno trovato inanimato sul letto dopo aver ricevuto alcuna risposta. Elia Fiorio era cresciuto nella città della ceramica per poi trasferirsi a pianizze dove viveva dopo essersi ritagliato uno spazio di indipendenza, questo grazie al sostegno economico del suo lavoro come commesso di un punto vendita dei supermercati Copp di Sarcedo. Anche in questi due paesi la triste notizia della scomparsa è girata di bocca in bocca nella giornata di ieri, suscitando profondo cordolo.